Oggi frittura di calamari buonissima facilissima e super croccante prepariamola insieme in pochi minuti è pronta in tavola e sentirai che bontà inizia con il lavare sott'acqua corrente tutti i calamari i miei già erano stati puliti dal pescivendolo poi asciugali e tagliali tutti in anelli in questo modo metti in una ciotola e tieni da parte in un'altra ciotola mescola la farina 00 e la farina di mais e questo è il trucchetto per una frittura di calamari croccantissima panna tutti i calamari tagliati per bene così scalda abbondante olio di semi di arachidi in una padella immergi tutti i calamari tagliati quando appunto è bello caldo girandoli spesso cuocili per bene levali quando sono dorati e croccantissimi metti su un piatto un po' di sale e pronti calamari fritti dorati buonissimi ma guarda che rondelle perfette metti sopra un po' di limone e gossati questa meravigliosa frittura di calamari buonissima